ragazzi e ragazzi ciao e benvenuti in questo nuovo video flash di aggiornamento del 22 giugno bene ci troviamo di fronte al video a candela giornaliera del token di FTX il famoso exchange basato naturalmente su Alameda Research come fondo di investimento che grazie anche alle sue azioni negli ultimi giorni come abbiamo visto al centro sempre di Economic Forum al World Economic Forum oppure di certe azioni che ha sempre dimostrato di valere come exchange di indubbio valore oggi mostra naturalmente un contro bitcoin un grafico che dal 8 di giugno non ha fatto altro che salire negli ultimi diciamo 10-12 giorni una notizia naturalmente che possiamo aggiungere come validazione di questo token che sembra essere importante che comunque non solo ha rotto la precedente valore di resistenza del 1 febbraio 2022 ma adesso sta leggermente ritracciando vediamo se poi riprenderà il trend contro bitcoin non lo guardiamo le altcoin per adesso guardiamole solo contro bitcoin perché il conto è inutile andarla a vedere però se andiamo a vedere il cryptonomist.ch notiamo che comunque ci sono delle notizie che sembrano essere positive infatti il 22 di giugno il prestito di FTX a BlockFi come possiamo osservare dall'apertura di questo articolo c'è stato praticamente una sorta di accordo che FTX aiuterà a BlockFi per cercare di evitare l'eventuale fallimento diciamo che l'accordo consentirà a BlockFi l'accesso al capitale in un momento in cui secondo alcuni aspetti la sua situazione finanziaria stava diventando molto complicata infatti la scorsa settimana la società ha dichiarato che stava riducendo il proprio organico di circa il 20% oltre ad attuare altre misure di riduzione dei costi come la riduzione delle spese di marketing e di retribuzione dei dirigenti i guai per la piattaforma di prestito di asset digitali erano cominciati lo scorso febbraio quando ha chiuso una controversia con la SEC pagando una maxi multa di penale di oltre 100 milioni di dollari. Il cloro naturalmente del mercato delle criptovalute ha poi generato una crisi di liquidità cascata che si è propagata con diverse società che avevano anche delle esposizioni in certi fondi di investimento. Il fondatore naturalmente ECEO di FTX Sam Bankman Pride ha dichiarato inutile che la linea di credito concessa a BlockFi e di naturalmente consentirà di navigare il mercato da una posizione di estrema forza. Quindi notizia solamente di indubbio valore. Torniamo naturalmente a GoCharting per vedere un attimo il grafico di Bitcoin e analizzarne ma prima visto che sta tentando di caricare annulliamo naturalmente quanto così e andiamo a vedere subito su CoinMarketCap che stiamo scendendo come valore di market cap è da ieri di 932 miliardi di capitalizzazione adesso siamo a 900 miliardi con andiamo a vedere su trading view andiamo a vedere il valore della di Bitcoin come dominance vediamo il grafico del prezzo bene ci troviamo a 44.22 in leggera recupero di leggera risalita invece per Ether il 15.03. Andiamo quindi ad analizzare il grafico di Bitcoin direttamente su GoCharting ecco vediamo direttamente GoCharting che mostra per tutti ribadisco gratuitamente il volume profile quindi non avete neanche problemi di dire devo utilizzare piattaforme complicate è un sito che basta iscriversi quindi inserire email password o l'account V del vostro Google entrate e avete la possibilità di vedere la situazione del prezzo come potete osservare seppur c'è stato un ritracciamento potrebbe il prezzo eventualmente raggiungere i 22 ma se non sfondiamo i valori di almeno i 30.000 ragazzi perché comunque i valori dovrebbero tornare in questi valori qui quindi intorno ai 30.000 dollari se non tornano a 30.000 dollari diciamo che questi potenziali volumi come potete osservare birish oltretutto non vanno da nessuna parte quindi per potere nel medio breve termine avere un senso di recupero del mercato rialzista dobbiamo superare questi valori dei 30.000 per validare e naturalmente essere anche sfondarli perché qui vedete come sembra un po' più elevato il valore almeno evidente dei volumi degli ordini birici quindi eventualmente ci sarebbe una forza di respingere i valori da 30.000 e farlo scendere ulteriormente giù quindi questa azione potrebbe essere una sorta di trappola per i bull che poi si vedrebbero negate naturalmente l'ulteriore risalita nel caso in cui comprando qui arriva 30.000 poi il prezzo scende andiamo a vedere naturalmente anche ITER perfetto ITER stesso discorso vedete che è analogo praticamente all'andamento del prezzo e comunque sia come potete osservare c'è stato sicuramente un aumento dei volumi per il volume profile intorno ai 1.800 e poi il prezzo si trova in questo campo di range tra i 1.200 e 1.300 anche i 1.000 dollari bisogna vedere quale sarà la sua direzionalità se verrà presa e andrà a rompere i 1.700 perché siamo qui e poi il punto di controllo se andiamo a zoomare in questa direzione è intorno ai 1.970 dollari valori naturalmente che servono per far riprendere fiato trend di nuovo rialzista e ripartire di nuovo perché siamo molto lontani dai 4.000 come punto di massimo come valore di resistenza dell'all time ITER come diciamo come si usa dire in inglese quindi naturalmente per adesso lo scenario è tutto che fuorché è solo birish per il momento è nulla che sono soltanto congetture di eventuali accumuli di ordine che si potrebbero posizionare ma magari lo fanno solo perché poi vogliono vendere a 30.000 poi vogliono vendere a 1.700 o 1.900 per quanto riguarda bitcoin e ethereum come prezzi che ho citato e poi magari lo fanno di nuovo dampare quindi attenzione naturalmente alle trappole per i bull quindi il mercato in questo momento è sicuramente birish andando a visualizzare eventuali dati on chain per esempio per ITER quindi visto che è in ballo per il merge che dovrebbe avvenire ad agosto quindi in viene estate notiamo che l'ash rate sia la potenza di calcolo al secondo l'ash rate per secondo che viene prodotta da tutta la rete di ethereum sta avendo sì una discesa la potete vedere qui nel grafico in blu rispetto a quella del prezzo in nero e c'è stato sicuramente una caduta del valore dell'ash rate ma non così elevato rispetto a prima andiamo a vedere naturalmente anche per bitcoin che naturalmente è una situazione di leggera salita anche se è molto più frastagliata questi sono praticamente dei rumori di fondo quando si osserve il grafico nel suo complesso con le oscillazioni in periodi ma comunque come potete osservare da questo periodo del 2019 fino ad oggi il trend dell'ash rate è soltanto salito naturalmente andiamo a vedere anche altri parametri come il flusso della riserva di tutti i bitcoin detenuti da tutte gli exchange come potete vedere ai minimi storici e comunque al di sotto di questo minimo che aveva toccato l'11 novembre del 2020 per quanto quindi concerne alcuni parametri di questo tipo abbiamo visto che ci sono delle discese dell'ash rate quindi della potenza di calcolo dell'accordo di bitcoin ma anche di ether e per quanto riguarda la riserva di tutti i bitcoin e andiamo a vedere anche per correttezza anche ether si c'è un leggero recupero come quantità di ether depositata in tutti gli exchange ma comunque siamo a valori molto bassi per quanto concerne la situazione macroeconomica che poi andremo un attimo a vedere magari per le notizie che potrebbero esserci a livello macroeconomico sappiate che i miners questa domanda mi è stata posta da degli amici che mi chiedono se il prezzo è ancora rende diciamo ereditizia la produzione le stazioni dei bitcoin rispetto al costo di bitcoin e quindi al valore che se ne può detrarre diciamo che ci sono diverse notizie per esempio che i miners dovranno chiedere autorizzazione per non avere la corrente staccata in caso per esempio del texas oppure per altri parametri legati al mining bitcoin vi devo dire la verità in generale non vi dovete preoccupare che la rete collassio va da zero per un semplice motivo perché bitcoin i miners in generale fanno edging nel senso che hanno degli strumenti di derivati che fanno short quando il prezzo va giù e quindi recuperano valore a prescindere dal fatto che bitcoin va da giù non stanno a guardare come fanno in molti soprattutto nel mercato retail hanno degli uffici di marketing degli uffici finanziari uffici di informazione tali che possono prendere posizione e fare degli short tali da poter recuperare e fare edging o sia copertura assicurativa praticamente come si chiamano in nostro gergo finanziario le opzioni quindi le opzioni sono strumento proprio per i miners per tutelarsi dal caso in cui il prezzo vada giù e oltretutto vi avviso che siccome è da anni che vedono alla lontana bitcoin quindi non sono le persone che non sanno come muoversi e non capiscono i meccanismi hanno una visione a lunghissimo a scadenza quindi da anni accumulano bitcoin quindi avranno accumulato dei bitcoin una quantità tale di bitcoin che per esempio è stata minata quanto valeva pochissimo che comunque sono sempre in profitto e poi vi ripeto il laging viene utilizzato anche perché laging questo tipo di grafico che vi ho mostrato di delta exchange che vi ho riproposto in questo istante serve proprio farvi capire che ci sono delle operazioni che se il prezzo va giù di iter sotto in questo caso abbiamo iter aperto sotto i 1060 dollari anzi anche meno a sotto i 1091 dollari il prezzo va in positivo fino a quando la curva addirittura vada esplodere guadagni sia nella direzione che nel caso del tipo nella tipologia di operazione quindi ragazzi mai pensare che si chiude bitcoin si chiude iter per qualche motivo perché i miners non guadagnano e chiudono tutto e non c'è più una rete la rete ci sarà sempre ci sarà sempre un profitto ed eventualmente hanno anche delle strategie per poter portare a casa un eventuale gain un eventuale guadagno su investing guide abbiamo naturalmente notizie che sono relative al consumer pride index inglese della quindi della gbp che naturalmente vede una valore uscito proprio alle 8 di oggi mattina mercoledì di 9.1 confermando il power cast del valore questi sono naturalmente notizie del calendario prevalentemente americano comunque le più importanti che ci sono e naturalmente in notizia molto importante quindi conferma della parte della federal reserve di powell alle 15 e 30 di oggi dove parlerà e quindi ci sarà questo speech di federal reserve con il c'è geron powell che naturalmente dovremo verificare che cosa dirà in merito all outlook dell'economia americana soprattutto della decisione della politica monetaria per cercare di capire come si muoverà il mercato quindi è importante naturalmente queste informazioni che naturalmente verranno a dare si suppone i famosi aumenti dei tassi di interesse vediamo cosa attueranno o cosa faranno da questo poi ci saranno dei movimenti certo è che dalla notizia di ieri che è stato un movimento di aumento delle vendite degli immobili in america non lo faccio neanche vedere pertanto è durata solo mezza giornata poi continuato di nuovo a perdere potenza e quindi sta scendendo di nuovo tutto quindi non non ne vale neanche la pena citare queste piccole movimenti diciamo positivi che poi perdono velocemente diciamo potenza e non confermano quasi nulla ragazzi credo di essere stato già abbastanza utile per quanto riguarda l'informazione chiudiamo comunque con le ultime notizie di tether che lancia la sua stable coin tether basata sulla agganciata alla sterlina britannica naturalmente la beacon chain di ethereum in testnet su sepolia e la russia fa marcia indietro sui pagamenti in criptovaluta a pochi giorni dal naturalmente siamo qui al 22 di giugno quindi articolo di oggi dal baro quindi dalle prime dure sanzioni economiche alla russia che aveva invaso il paese un politico d'altro rango della duma aveva lasciato intendere che il paese avrebbe valutato anche la possibilità di accettare pagamenti in criptovaluta in cambio di petrolio e gas e nei giorni scorsi la reuters citando l'agenzia di stampa russa interfax aveva riferito che il governo russo stava aprendo una serie a riflessione sulle opportunità o meno di usare le criptovaluta l'idea di utilizzare le valute cita questo breve tweet digitale la transazione per gli inserimenti e in fase di discussione quindi pagamenti in criptovaluta in russia solo per piccoli pagamenti ma vedremo come andrà nel prossimo futuro articolo naturalmente di tether che lancia la sua stable coin gbp la dice tutto sul fatto visto che vi aggiorno che tether ha fatto anche un audit importante per dimostrare la sua serietà con il collaterale ossia i veri dollari detenuti dal dollaro terra perché si erano mosse come se fossero delle voci a titolo di distruzione della dollaro terra a scapito naturalmente vantaggio di stable coin come la c dollaro c euro c che stanno prendendo il loro recupero rispetto al dollaro tether che era diciamo la più forte la più utilizzata quindi tether ha annunciato oggi il lancio della nuova stable coin 1 ad 1 alla sterlina britannica disponibile a partire dall'inizio di luglio e sarà costruito dal fidato team di sviluppatori di tether e dollaro tether e opererà sotto tether.to la creazione del gbpt porterà le sterline britanniche sulla blockchain e fornare un'opzione più veloce e meno costosa per i trasferimenti di beni il supporto iniziale dalla blockchain include naturalmente anche iter e quindi rete ethereum la nuova stable coin gbp si unisce la già quattro stable coin lanciate dollaro tether euro tether cnh tether ossia lo yuan cinese mexican tether quindi il pesos americano tether e quindi tether è definito anche il pioniere delle stable coin proprio grazie al dollaro tether che è la più grande e la più vecchia la prima diciamo cripto luta stabile utilizzata praticamente per non dover ritornare in cripto in fiat ma rimanere sempre in cripto ma uscire diciamo dall'investimento di cripto valute che sappiamo avere una certa oscillazione e volatilità quindi ragazzi vi ringrazio ancora spero sempre un vostro like che questa volta neanche all'inizio ve l'ho chiesto ecco quindi vedete voglio proprio vedere se ricevo qualche like da questo video che praticamente solo alla fine vive lo vi ringrazio del del like e quindi ciao grazie alla prossima